Ciao Anima Bella, sono sempre Elena Tione di Aida Blanchett Healthy Life Coach, in questo breve video di oggi volevo darti un altro piccolo input per quanto riguarda la respirazione. In un precedente video ti ho spiegato in che modo favorire la respirazione diaframmatica, lasciando anche un'attenzione ai muscoli che circondano la trachea. Un'altra cosa importante da conoscere per favorire il rilassamento in qualsiasi situazione è lasciare che la nostra lingua all'interno della bocca sia libera di, per così dire, fluttuare. Quindi portare la nostra attenzione a che cosa sta facendo la nostra lingua nella bocca in un certo dato momento, perché la radice della lingua è collegata con tutto il sistema muscolare che arriva fino al pavimento pelvico. Naturalmente tutte le fasce muscolari sono collegate le une con le altre e noi le chiamiamo in modi diversi semplicemente per motivi didattici, esplicativi, ma tutto è collegato con tutto. La lingua fa dei piccoli movimenti a seconda di quello che stiamo pensando, perché ricordo che il pensiero semplicemente sono parole dette all'interno della nostra mente, quindi non usando l'apparato fonatorio. Cioè nonostante la nostra lingua fa dei piccoli movimenti a seconda dei pensieri che facciamo, e se naturalmente abbiamo dei pensieri stressanti, dei pensieri di paura, dei pensieri di non sono sicuro come pensiero radice, la nostra lingua si muoverà altrettanto. Questo crea delle tensioni muscolari e il fatto di rimanere in questi pensieri stressanti mantiene il nostro sistema nervoso autonomo in stato di allerta, in fight or flight. Quindi una cosa sicuramente che aiuta a uscire fuori da questo stato è rilassare la radice della lingua. Spero che questa altra piccola informazione ti sia stata utile, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e se vuoi, se questa informazione ti è stata di utilità, lasciami un commento sotto il video e come sempre buon cammino, anima bella. Grazie.